Questo video riguarda i migliori tre soffiatori aspiratori trituratori di foglie. Il vincitore della qualità è il Swift 3 in 1. Questo soffiatore per fogli aspiratore e trincia da 40 V3 in 1 presenta una velocità dell'aria nell'aspiratore fino a 112 miglia all'ora, mentre la velocità massima dell'aria nel ventilatore è di 128 miglia all'ora. Il tasso di pacciamatura 40. Uno assicura che il sacco per foglie ritagliate da 12 litri possa accumulare foglie equivalenti a 200 litri. Ti fanno effettivamente passare meno tempo per svuotare la borsa e risparmiare più tempo per pulire il tuo giardino. Il soffiatore aspiratore da giardino può essere facilmente convertito da soffiatore per foglie aspiratore premendo il grilletto, senza bisogno di attrezzi. Questo aspirapolvere e trincia a batteria 3 in 1 include tracolla e ruota anteriore che consente di lavorare in tutta comodità per un periodo prolungato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Greenworks GD24 X2. La ventola potente, i due vani batteria e il motore brushless emettono un potente getto d'aria che soffia via foglie e detriti da prati o vialetti o aspira le foglie le secche riducendone il volume. Progettato per ridurre l'attrito per più potenza, risultati migliori, funzionamento più silenzioso e maggiore durata, con 6 impostazioni di velocità per spostare i detriti più ostinati e ripulire intorno a piante delicate. Aspiratore soffiatore a batteria progettato per soffiare il terreno col giusto angolo per offrire la massima forza, con un'impugnatura imbottita che si afferra comodamente. Confezione e solo attrezzo e fornita senza batterie per il doppio alloggiamento, così se già possiedi apparecchi Greenworks da 24V puoi utilizzare le stesse batterie riducendo gli sprechi. Da Greenworks, leader mondiale negli attrezzi elettrici e della tecnologia a batterie, con una reputazione globale per design intelligente, prestazioni elevate e un servizio clienti eccezionale. Il vincitore del premio è il Black & Decker BabyV300. Tre funzioni soffiatore, aspiratore, trituratore, potenza di soffiaggio fino a 404 km orari per soffiare anche i detriti più difficili, per rimuovere rapidamente i detriti più ostinati dal giardino. Riduce i detriti con un rapporto 16 e un minuto per accelerare il compostaggio e facilitare lo smaltimento. Consente di regolare la potenza in base alle proprie esigenze. Tubo flessibile, per una facile manovrabilità mentre aspiri foglie e detriti. Dimentica il tradizionale sacco raccogli foglie per una maggiore manovrabilità e un facile utilizzo in giardino. Sistema di bloccaggio a sgancio rapido roll e click, basta far scorrere e click per chiudere o sganciare la borsa per facilitare lo svuotamento. Per un maggiore controllo e maneggevolezza in tutto il giardino. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.